La capacità delle imprese... Da giovane per i giovani, cambiare richiede coraggio. Con questo slogan il fanese Luca Serfilippi, 33 anni, responsabile commerciale nel settore metalmeccanico, ha presentato la sua candidatura per la Lega alle regionali del 20 e 21 settembre. Serfilippi, che con oltre mille voti è stato mister preferenza alle ultime elezioni comunali, ha scelto la zona del Pincio per elencare i suoi cavalli di battaglia. Dal piano sanitario alle politiche attive per il lavoro, dagli incentivi per giovani e famiglie, alle infrastrutture per portare le marche ad essere competitive, consegnando ai giovani una terra di bellezze, di tradizioni, ma anche di enormi potenzialità, con servizi all'avanguardia e strutture efficienti, vicine e accessibili a tutti. Un piano sanitario completamente da riscrivere, dove dobbiamo assolutamente potenziare con più medici, più infermieri i nostri ospedali pubblici. Dobbiamo riaprire gradualmente, perché nessuno qui avrà la bacchetta magica, gli ospedali chiusi e far sì che i servizi arrivino a casa del cittadino e non il cittadino che sia costretto a fare 80-100 chilometri. Questo è il primo tema. Il secondo è quello del lavoro. Da giovane noi vediamo tanti giovani purtroppo scappare all'estero o fuori regione e il lavoro è strettamente collegato tra i giovani e le aziende, perché le nostre aziende sono intrappolate da una burocrazia ferma che non gli fa investire. Noi dobbiamo creare le basi per far sì che i nostri giovani rimangano qua e anzi sia attrattiva verso i giovani degli altri territori. E in ultimo quello degli investimenti, quello delle infrastrutture. Cioè noi abbiamo un gap infrastrutturale enorme, dalla Fano Grosseto, Fano Urbino, io propongo la ciclovia lungo il Metauro, ma qui abbiamo visto tanti politici, tante passarelle ma pochi fatti. Ha deciso di fare una campagna elettorale un po' diversa dagli altri, senza avere una sede fissa ma mobile. Andando in mezzo alla gente. Questo è Luca Serfilippi e mi auguro che tanti cittadini voteranno Lega e scriveranno Serfilippi a fianco nella scheda elettorale. Presente alla conferenza stampa il candidato governatore Francesco Acquaroli, il commissario regionale della Lega Riccardo Augusto Marchetti e l'onorevole Luca Rodolfo Paolini. Sono mancate le strategie per combattere lo spopolamento e la denatalità, ha precisato Acquaroli, dobbiamo investire sui giovani, sulle start-up e sulle piccole e medie imprese affinché siano competitive e rimangano nei borghi dell'entroterra. Dobbiamo invertire la tendenza e puntare su innovazione e internazionalizzazione. Se noi non riusciamo a dare delle prospettive ai giovani, c'è una statistica che fa molto paura, stanno scappando di fatto da regione Marchetti. C'è questa statistica che dice che fra dieci anni avremo 100.000 abitanti in meno. Presumibilmente sarebbero tra questi 100.000 molti i giovani che decidono, finiti i percorsi di studio, di andare a lavorare fuori. E noi dobbiamo mettere in campo una visione, un progetto amministrativo che possa dare risposte alle imprese, agli artigiani, ai commercianti, a tutte quelle che sono le nostre piccole e medie realtà che, abbandonate a se stesse, non riescono a superare questo momento di impasse. La Lega saprà fare la differenza, ha poi aggiunto l'onorevole Marchetti. Le Marche sono comune a Ferrari con il freno a mano. Saremo in grado di dare quelle risposte che per 25 anni la sinistra non è stata capace di dare. Tra le azioni che la squadra porterà avanti rientrano gli aiuti per le giovani coppie con case popolari a canoni concordati e asili nido gratuiti. Noi come Lega abbiamo selezionato i migliori candidati in assoluto che c'erano nel territorio, un ragazzo giovane preparato che saprà portare idee fresche e innovative per questo territorio e per questa provincia sicuramente in ragione già dai prossimi 15 giorni.